Siamo qui a festeggiare il cinquantenale della nostra ditta perché fu fondata da mio sociolo 50 anni fa. Abbiamo pensato di fare la festa della pizza nell'occasione, quindi siete benvenuti e tutti quanti se vengono intro oggi possono avere una pizza a solo 3,50 euro compresa di una bibita, proprio per fare l'augurio al ristorante. Comunque siamo qui da tanti anni, ci siamo fatti un nome, penso, perché già da mio sociolo, poi mio marito, purtroppo non ci sono più sono stati loro i promotori di portare avanti questo locale in tanti anni, con tanti sacrifici. Una pizzeria di famiglia tramandata da padre in figlio, oggi mi ritrovo da sola a portarla avanti però con i miei collaboratori che sono tutti in gamba, tutti quanti abbastanza professionali, tutti bravi e cerchiamo di fare del nostro meglio. Ci verrete a trovare? Penso di sì. Va bene? Grazie. 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 Grazie.